Ammirate cosa significa amare per davvero. Sofia ha perduto gli occhi per il suo principe ed ora ha abbandonato anche le sue sembianze umane. José ha sofferto due anni in silenzio, senza meditare vendetta, ma serbando nel suo cuore fede per la sua promessa sposa. Essi sono degni di una vita felice e duratura. Ed ora, Maleficius e Dio, compieremo il prodigio più grande da noi mai evocato, il returnus tempus anticus. Con questo incantesimo, Sofia e José torneranno come prima, due bellissimi, innamorati, giovani promessi sposi, tutti due umani. E Sofia tornerà a vedere come una volta. Grazie. 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 Tornati alle loro sembianze umane, José e Sofia potevano celebrare finalmente il loro amore, unico ed immenso, con un canto che si ergeva al di là dei confini del regno. Grazie a tutti. 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 E così, e così, e così. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.